Come ogni due anni apre le porte il salone dell'auto di Shanghai che si protrarrà fino al 28 aprile, come sempre moltissime le novità con le notizie positive del mercato che arrivano anche dalla vecchia Europa. I marchi fanno a gara per presentare le vetture più aveniristiche e la Citroën svela il suo SUV C5 Aircross disponibile sul mercato cinese in Europa dal 2018. Maserati sotto i riflettori con la consegna al suo nuovo proprietario cinese della vettura 100.000 prodotta presso lo stabilimento di Grugliasco. La Cina è il principale mercato di Maserati per la quattroporte. Tra le altre novità la nuova BMW Serie 5 Berlina nella versione a passo allungato.